Partire dall'idratazione della pelle questo è fondamentale prendersi cura della propria pelle è uno step necessario per poter creare le basi su cui costruire un make up correggere quelle che sono le imperfezioni attraverso i prodotti che parlano di base quindi fondotinta piuttosto che le BB trim valorizzare gli occhi l'accento lo punterai sempre sulle labbra anche perché colorare le labbra sia in grado di arrivare ad avere un macchiage estremamente vivace che riesce a dare luce luminosità a tutto il volto